Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro della 39esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli. Sono Claudia Munarini e frequento l'ultimo anno di lettere moderne all'Università Cattolica di Milano e qui con me ci sono Francesco Bruni, sceneggiatore e regista, autore per il nostro cinema di alcuni tra i lavori più interessanti degli ultimi anni e di cui adesso ci racconterà lui stesso, e Antonio Utieri, critico e giornalista cinematografico, direttore di Sentieri del Cinema che vi prego di salutare tutti con un caloroso benvenuto. L'incontro di questa sera ha per titolo Uno sguardo sul mondo, il cinema di Francesco Bruni. Questo incontro nasce dal nostro desiderio di far conoscere a tutti voi Francesco e i suoi lavori cinematografici, sia da sceneggiatore che gli ultimi lavori anche da regista, che ci hanno così affascinati e mi hanno così affascinati da arrivare quest'anno a decidere di scrivere su di lui la mia tesi di laurea magistrale. Quello che ci ha molto colpito studiando i suoi lavori e poi conoscendolo personalmente è stata la sua capacità di cogliere l'umanità dei suoi personaggi e di rappresentare in un modo molto originale questioni che riguardano la nostra società e non solo la nostra società italiana, tanto che il suo ultimo film che sarà proiettato poi sempre qui stasera sta girando e continua a girare in tutto il mondo. Segno evidente che quello che Francesco ha saputo cogliere non riguarda solamente l'Italia ma l'uomo in generale. In particolare quello che mi ha colpito è stata la capacità di rappresentare soprattutto nei suoi film da regista il rapporto, il problema del rapporto tra il giovane e l'adulto, non tanto perché esprima la questione del disagio giovanile che tanti hanno molte volte rappresentato, ma per la capacità di proporre una risposta pratica a questo disagio nel rapporto concreto tra un ragazzo e un adulto che si incontrano e entrambi bisognosi di una risposta, di una possibilità di affrontare la realtà che è sempre più difficile. Questa tenerezza che emerge molto chiaramente nei suoi film ci ha molto colpito al punto da invitarlo e per chiedergli da dove nasca e siamo sicuri che quello che ha colpito noi colpirà anche voi durante questo incontro. Antonio è qui con noi per aiutarci a scoprire il mondo di Francesco. Do la parola ad Antonio. Grazie Claudia. Allora, vado a dare qualche cenno biografico di Francesco, per chi non lo conoscesse, spero che molti già lo conoscano, ma dare qualche coordinata. Francesco Bruni nasce a Roma nel 1961, la sua giovinezza è variegata come città perché passa alcuni anni con la famiglia ad Atene, poi a Milano, poi a Livorno. Livorno diventa un approdo importante, diciamo dagli anni delle scuole medie in poi, la giovinezza così formativa che verrà fuori in tante sue opere e poi torna a Roma all'inizio degli anni 90 per fare cinema, come tanti suoi colleghi, tanti della sua generazione, ma in realtà di tutti, anche Fellini come ha raccontato in un suo famoso film. A Roma inizia a fare la carriera di sceneggiatore, cioè scrivere cinema per altri. Importantissima la collaborazione e l'amicizia, il rapporto molto forte con Paolo Virzi, Livornese, con cui c'è stato un lunghissimo solidarizio e un rapporto anche personale molto forte che c'è ancora. Quindi diciamo dai primi film, La Bella Vita, Ferie d'Augosto, Vosodo, fino al 2012 con Il Capitale Umano. Poi ci sono una serie di percorsi intrecciati con altri tipi di cinema, di autori, Mimmo Calopresti, regista molto importante, la metà degli anni 90, ci fu La Seconda Volta, un film con Anni Moretti protagonista sul terrorismo, La Parola Amore esiste, Preferisco il rumore del mare, una serie di film con questo autore molto sensibile con cui Bruni ha scritto appunto i suoi film. Piuttosto che una coppia comica, Ficarra e Piccone, Il 7 e l'8, La Matassa, i primi film di questa coppia portano la firma anche di Francesco. E poi una serie tv famosissima, Il Commissario Montalbano. Tutti gli adattamenti di questi film tv, di questa serie ormai ventennale, dal 1999 se non sbaglio ad oggi, sono sceneggiati da Francesco Bruni. Fra l'altro con un adattamento linguistico dalle opere di Andrea Camilleri importante. E tanti altri film. L'anno scorso abbiamo presentato qui Lasciate andare di Francesco Amato. Francesco era uno dei suoi sceneggiatori. Quindi per conoscere ancora meglio chiederei alla regia di mandare un primo blocco di spezzoni di film che portano appunto la sua firma come sceneggiatore. Tanti modi diversi da Ovo Sodo, cioè Virzi, la commedia costruita a quattro mani da una persona con cui ci si conosce molto bene, ai film più drammatici dei calopresti, film comici, ha detto lei gialli per la televisione. Come le differenze, ti chiederei la prima cosa, le differenze di questi tipi di scrittura e qualche parola sul tuo percorso di formazione. Che cosa ha portato a saper scrivere? Mi ha fatto impressione questa carrellata, sembra il ritratto di uno schizofrenico. Sono fin talmente diversi fra loro. Però penso di riuscire a dare una spiegazione. Cosa mi ha portato a fare lo scrittore di cinema? Penso fondamentalmente il fatto che io sono uno che ha fatto studi umanistici, che da ragazzo ha fatto teatro e ha cominciato ad avvicinarsi al teatro e al cinema con grandissima passione, che non pensava di avere il carattere giusto per fare il regista, ma che la vocazione sua, cioè mia, fosse quella di aiutare un'altra persona a mettere in scena il suo mondo, che poi è il mestiere meraviglioso, il mestiere dello sceneggiatore che nessuno conosce mai abbastanza e quindi una forma diciamo più altruistica, più nell'ombra diciamo di fare il cinema. E quindi è tutto cominciato col fatto che il mio amico Virzi, che aveva studiato sceneggiatura anche lui, che era nato come sceneggiatore, a un certo punto ha deciso di diventare il regista, di fare il suo primo film, che era La bella vita, e ha chiesto a me, che ero il suo migliore amico, avevo appena finito di fare il centro sperimentale di cinematografia, di scrivere con lui e da lì abbiamo cominciato una lunga cavalcata bellissima, di grandi soddisfazioni, appunto essendo anche lui, ripeto, anche lui sceneggiatore, quindi scrivevamo insieme in tutto e per tutto. E lì diciamo ho espresso più pienamente il mio gusto, il mio stile, il nostro gusto, il nostro stile, il nostro mondo. C'era questa cosa molto... parlavamo, tu hai detto Fellini va a Roma, ma infatti questa è la chiave spesso diciamo anche del successo, cioè portarsi un mondo come quello livornese nella grande città, grande vantaggio, raccontare un mondo che gli altri non conoscono o che conoscono poco. L'altro grande vantaggio è arrivare nella metropoli con occhio da provinciale e cioè quindi guardarla con l'ammirazione e con la soggezione di chi ci arriva di fuori e non la dà per scontata come la danno per scontata i romani o i miranesi, insomma. E quindi questo è diciamo l'asse principale è nel rapporto con Paolo, con i film che abbiamo fatto insieme, che ci hanno definito, ci hanno fatto diventare una coppia anche famosa, insomma ci hanno fatto vincere tanti premi. Oltre a questo ho cominciato a cercare altre collaborazioni, soprattutto quella con Ficarra e Piccone che è stata un'esperienza molto felice, dove però ho fatto un lavoro totalmente diverso. Cioè lì non portavo il mio mondo, non raccontavo le mie storie, ma aiutavo questi due comici molto intelligenti e molto curiosi e molto desiderosi di fare del cinema di buona qualità, non semplicemente un collage di gag, a mettere insieme le loro storie, il loro mondo e quindi mi mettevo al servizio totale di altre persone. Oltretutto fare lo sceneggiatore per i comici, per una coppia di comici è difficilissimo perché loro rendono bene soltanto quando sono insieme e quindi devi creargli una storia che gli permetta di stare sempre insieme, devi equilibrare le parti in modo che facciano ridere nello stesso modo. Insomma, è stata una scuola molto importante. E dall'altra parte invece il versante drammatico, per esempio, drammatico nel senso del genere di film che abbiamo fatto con Mimmo, Carlo Presti e questo esordio folgorante che fu la seconda volta che andò a Cannes in concorso, interpretato da Nanni Moretti, dove invece ho dato, diciamo, sfogo ad un'altra parte della mia sensibilità, perché io comunque come spettatore mi piace tanto cinema, cioè non è che me ne piace un solo un tipo, mi piacciono anche i film, anche i film drammatici, anche i film cupi, se sono intelligenti, se sono appassionanti e quindi, diciamo, ho messo la mia sensibilità a servizio di un altro tipo di cinema ancora. Poi, vabbè, Montalbano non voglio neanche parlarne perché Montalbano è il merito, è tutto di Andrea Camilleri e dei suoi libri meravigliosi. Io ho avuto solamente la fortuna che mi è stato chiesto di sceneggiarlo e il piccolo merito di, diciamo, di sfrondare i romanzi e di portarli alla misura di una serata televisiva, quindi, diciamo, un lavoro fondamentalmente di editing, ma non di invenzione artistica. Poi, nel 2011, una svolta molto importante, il passaggio alla regia. Come molti tuoi colleghi, si decide di andare dietro la macchina da presa, raccontare storie più personali. Chiedo quindi alla regia di mandare un piccolo blocco di due sequenze di film di regia di Francesco Bruni. Tre film da regista, il terzo è tutto quello che vuoi che vediamo in questa sala alle 21, tre storie molto personali che partono da spunti personali. Cosa significa appunto questa decisione di raccontare di sé, addirittura circondandosi di persone vicine vicine, c'è sempre tua moglie Raffaele Boroni nel cast, era la signora sulla destra nell'ultima sequenza di noi quattro, ed è sempre presente nei tuoi film, come è presente con ruoli crescenti Arturo Bruni, tuo figlio, camei di un fratello, amici, persone... È importante circondarsi di quello che conosci e raccontaci come è avvenuto il passaggio alle tue storie. Sì, a un certo punto un produttore, che è poi Beppe Caschetto, il produttore di Scialla, di noi quattro e di tutto quello che vuoi, mi ha chiesto di scrivere una commedia chiedendomi di scrivere una commedia sulle corna e io francamente non ne sono molto esperto insomma, almeno ne attivamente, passivamente può anche darsi, ma non lo so insomma per cui non mi sentivo ferrato sull'argomento. In quel periodo stavo attraversando dei mesi difficili con mio figlio riguardo allo studio. Vedevo che certi nostri dialoghi quando io cercavo di farlo studiare, quando li riferivo a Virzi o altri amici, loro si spanciavano dalle risate, come questo dialogo qua che avete visto, o quello in cui si parla dell'omosessualità di Achille. E allora ho rilanciato, ho detto, ma potrei scriverti una storia su un padre e un figlio, sull'educazione di un figlio che uno non sapeva di avere. Lui mi ha detto, sì, fallo pure. E quando io poi ho finito la sceneggiatura il produttore mi ha detto, senti ma questa è una storia talmente tua, nei luoghi, nei modi, nei personaggi, perché non la giri, non fai anche la regia? E io devo dire che non ho esitato tanto perché effettivamente era la prima volta che avevo scritto un copione senza un regista e l'avevo scritto in totale libertà. Era molto personale, mi ci ero affezionato molto, sentivo che non era impegnativo da un punto di vista produttivo, che avevo potuto dirigerlo. E quindi mi sono buttato, il film è stato un tale successo in Italia, all'estero, che da lì in poi ho continuato occasionalmente, diciamo ogni due, tre anni, tre, quattro anni, insomma, a fare dei film miei, sempre un po' con questa stessa ricetta, che è quella di travisare le mie vicende personali, cioè di camuffarle, ecco un po'. Così mi sono camuffato in Fabrizio Bentivoglio, questo ex professore svogliato che viene così sollecitato improvvisamente dalla comparsa di questo figlio. In noi quattro ho fatto una specie di elegia della famiglia moderna, travisando la mia famiglia, perché noi siamo in quattro, ma in combinazione diversa. Ho raccontato la storia di questa famiglia di separati in questa giornata molto difficile, romana, in cui succedono tanti nodi, vengono al pettine. E poi, infine, questo ultimo film che vedrete stasera, di cui però non voglio anticiparvi, anche questo nasce da un'esperienza personale, dolorosa, tramutata, diciamo così, in commedia. Per conoscere ancora di più Francesco, vediamo adesso tre spezzoni di film, non suoi, che l'hanno formato, sono sue passioni cinematografiche fra le tante, e vediamo di capire qualcosa di più. Quindi mandiamo il terzo blocco e ultimo. Un appassionato di cinema, un autore di cinema, ha nella sua formazione anche tutto quello che vede, o, altra cosa di cui mi piacerebbe parlare con te, i maestri che hai incontrato. Quindi cosa ha formato il tuo sguardo sul mondo, come da titolo di questo incontro che abbiamo immaginato con te? Le tue passioni, alcuni di questi film, i vari incontri? Beh, in parte sì, film che ho visto da ragazzo, specialmente questo film di Altman, Nashville, che mi portò mio padre a vedere quando io avevo 14 anni, mi ha colpito tantissimo. All'epoca non avrei saputo dire perché, perché comunque adesso, diciamo, a posteriori, come tutto il cinema di Altman, capisco che lo apprezzo perché racconta gli Stati Uniti, un mondo, diciamo, l'Occidente, il cuore dell'Occidente con uno spirito sarcastico, critico, con un mix di dramma e commedia e ironia, che poi è un po' la chiave di tutti questi filmati che abbiamo visto, che è un po' la ricetta meravigliosa anche della commedia italiana migliore. C'eravamo tanto amati anche, che anche quello è un film sull'Italia degli anni 70, ed è un film dove gli autori, perché lì non si parla solamente di scuola, ma si parla anche di age e scarpelli, riuscivano a far passare un messaggio, anche politico, anche molto serio, sul nostro paese, attraverso, diciamo, la specie, sotto la specie della commedia, di un film divertente. Se pensiamo, appunto, anche i soliti ignoti, persino la grande guerra, che è un film che finisce in maniera tragica, hanno questa ricetta, cioè di saper raccontare l'Italia in maniera approfondita e anche critica, però facendo divertire, facendo divertire il pubblico. E poi c'è Woody Allen, che per me è una divinità, nel senso che ha accompagnato tutta la mia vita con il suo senso di rumorismo, e ho scelto questo film perché questo film è il film più terribile di Woody Allen, il film più pessimista, dove si parla della mancanza di senso di colpa, del fatto che non c'è una giustizia, che le persone che commettono atti orrendi la fanno franca e spesso, appunto, sopravvivono anche al senso di colpa. Ma anche questo lo fa raccontandolo con un grandissimo senso dell'umorismo laddove è possibile. E poi ho avuto la fortuna di intercettare, nell'ultima fase della sua carriera, Furio Scarpelli, appunto, della coppia Age Scarpelli, che è stato un po' il maestro, non solo mio, è stato il maestro di Paolo Virzi, è stato il maestro di Francesca Archibugi, ma anche mio, dal quale, appunto, abbiamo cercato di mutuare questa ricetta del fare commedia, diciamo però in maniera, come posso dire, problematica, ecco, diciamo così, problematica. La commedia non è solo battute buffe, personaggi stravaganti, la commedia è anche un rimaldello, una chiave importantissima per leggere la contemporaneità. L'anno scorso mi fai in mente che quando abbiamo invitato Francesco Amato per un incontro e per far vedere il film Lasciati Andare, si parlava di maestri, era quello il titolo, e lui ti citò fra i suoi maestri. Ecco, tu hai citato Scarpelli, gli incontri personali con maestri, anche proprio il rapporto, il tempo che si passa insieme, anche questo incide. Cioè, c'è solo un passaggio, come dire, tecnico di conoscenze o anche un modo di guardare le cose? Ma, come diceva giustamente, adesso non ricordo più chi, cioè una persona ti insegna anche e soprattutto per com'è, per com'è. Un po' come Woody Allen. Esatto, esatto, come diceva Woody anche adesso. E quindi poter osservare da vicino queste persone nel loro modo di vivere, per esempio, il loro ruolo di cittadini, il loro modo di partecipare alla vita politica, anche attraverso il cinema. Furio, per esempio, mi ha insegnato e ci ha insegnato una cosa importantissima, che il cinema è l'ultima cosa di cui ci dobbiamo cibare per fare cinema. Ma bisogna ciparsi appunto di musica, di arte, di fotografia, di giornali, essere un cittadino che vive all'interno della società e conosce i problemi della società e poi eventualmente anche di cinema. Ma mai fare cinema a partire dal cinema. Ecco, questo è stato un insegnamento. Fra l'altro a noi piace sempre in questi incontri far vedere degli spezzoni, come avete visto, anche perché sono consigli per chi eventualmente non li avesse ancora visti questi film, quindi per recuperarli. Di crimini e disfatti, fra l'altro è stato difficile estrapolare, c'erano delle sequenze molto belle sul senso di colpa, come dicevi tu, ma un po' che si svelava. Il dialogo finale è meraviglioso. Si svelava anche troppo, quindi ho cercato di evitare, però appunto sono consigli a cui mi associo, insomma, sono di Francesco, ma mi associo a questo. Ecco, tutti i grandi film del passato, ci sono tanti altri da citare, e oggi il cinema ha ancora questa presa sulla società, sulle persone, non mi piace parlare di spettatori, ma sulle persone, ha la capacità di, come dire, di accogliere l'attenzione e, dico ancora di più, una cosa che forse ci sta ancora più a cuore, raccontare l'uomo, raccontare il cuore dell'uomo. Tu spesso ti ergi a difensore il cinema, anche in pubblico, quando tanti addetti ai lavori dicono che il cinema è morto, dobbiamo cambiare mestiere, molti sembrano non crederci più. Tu ti spendi molto, addirittura parlando bene, di opere di altri. Evidente che se pensassi che il cinema è morto, insomma, aprirei una tabaccheria probabilmente, perché, certo, ha perso il suo appeal popolare, quello delle grandi masse, insomma, quello che la gente andava in massa al cinema prima e ne parlava tanto. Io mi ricordo i miei genitori che tornavano a casa e parlavano di film che io poi avevo voglia di rivedere, era l'argomento proprio. Io credo che ancora possa avere una grossa importanza, lo vedo, per esempio, attraverso l'esperienza dei miei film nelle scuole, soprattutto. Probabilmente, diciamo, bisogna cominciare a pensare che la fruizione dei film mica cambia, e cioè che non è necessario che la gente i film li vada a vedere in sala, ma li vedrà in DVD, in streaming, li rivedrà come cavolo li vuole vedere, anche se secondo me perde tantissimo. Un film come quello che vedrete stasera, e spero che rimarrete a vederlo, è un film che, se è in sala, mette il turbo proprio, cioè perché si crea un sentimento di condivisione fra il pubblico che aumenta il godimento e anche la commozione. Però, se i ragazzi lo vogliono vedere sul computer, lo vogliono vedere sul cellulare, lo vedano come gli pare, l'importante è che si continui a fare cinema di qualità e che la gente continui a vederlo. Fra l'altro tu sei stato anche insegnante di cinema per tanti anni al Centro Sperimentale, dice notografia, che è la scuola per eccellenza di cinema, l'università, se vogliamo, di chi vuole fare cinema. In questo hai avuto poi, a sua volta, sei stato tu maestro per altri, appunto, e hai passato come delle competenze. Se ci fossero giovani in sala interessati a fare cinema, come credo ci siano, ci sono sempre in questi incontri, cosa diresti a un giovane? Cosa deve fare e cosa non deve fare? Vorrei proprio passargli il comandamento di Furio Scarpelli, cioè il cinema viene dopo, cioè non guardate solo film, leggete romanzi, andate a vedere mostre fotografiche, andate ad ascoltare concerti, informatevi su quello che succede nel mondo, andate a teatro, quindi nutritevi di tante cose diverse, non solo del tecnicismo cinematografico da imitare, da copiare, ma di qualcosa che possa arricchirvi umanamente e che poi faccia in modo che voi abbiate delle storie originali, personali da raccontare. Questo penso fondamentalmente, insomma. La frase di Furio è il cinema viene dopo. Da scolpire. Esatto. E fra l'altro i giovani sono, come diceva anche Claudio all'inizio, sono uno dei tuoi focus di interesse narrativi, sono stati sia in altri film, penso, o Vosodo, altri film di Virzi, lo sono tantissimo nei tuoi tre film, come insomma i primi due qualcosa abbiamo visto, fratto Scialla è stato molto visto, noi quattro un po' meno e veramente sarebbe, spero che chi non l'ha visto lo recuperi, perché insomma è un gioiello, e tutto quello che vuoi, che vedete stasera, che secondo me fa un passo in più, in questo senso. Da cosa nasce questa tua passione, sia narrativa, sia nel coinvolgerti anche con i gruppi di giovani che fanno cinema, che fanno attività culturali? Da non esce soprattutto quello che ci ha sempre incuriosito, questa tua simpatia nel vedere, penso il protagonista di Scialla, penso il protagonista del film che vedrete stasera, che inizialmente sembrano senza artene parte, poi succede qualcosa e c'è una possibilità. Da cosa non è una... Ma no, intanto perché sono stato giovane anch'io e anche un pochino così, non dico scappestrato, però insomma con le idee confuse, a me mi ha salvato il cinema, insomma ha salvato il teatro prima e poi il cinema, mi ha fatto capire che cosa volevo fare, però sono stato anche un bel perdigiorno, insomma ho avuto la mia fase problematica in cui i miei genitori dicevano che ne sarà di questo ragazzo. Mi facevo tante canne anche, mi ricordo. E quindi mi ricordo benissimo il sentimento di incertezza di quegli anni, e non solo di incertezza ma anche i sogni, cioè quello che immaginavo di poter fare e poi mi disperavo perché pensavo non ce la farò mai a farlo. Poi perché ho due figli, uno appunto il modello di... che è nel film di stasera fra l'altro, Arturo fa la parte dell'amico cattivo del protagonista, è una figlia e per cui casa mia è un luogo di incontro, di ritrovo dei loro amici, quindi ho la possibilità di osservarli molto da vicino. E poi perché i personaggi dei giovani sono i più, diciamo, interessanti perché attraverso la storia di un film crescono, si modificano, il famoso romanzo di formazione, cioè le vicissitudini di una storia cinematografica li cambiano, cioè li prendi in un modo all'inizio e li trovi completamente diversi alla fine, come vedrete stasera. E questo è il succo di una storia cinematografica. È più facile farlo con un personaggio giovane, i giovani sono più aperti. E mi sembra che sia un po' in contundenza con uno sguardo spesso, tra virgolette, asfitticamente sociologico, pessimista su una generazione, come dire, disimpegnata, disinteressata, sdraiata, che spesso mi sembra poco generoso. Cosa pensi di questo in particolare? Penso che sì, sono quelle cose che, quando cominci a dirle, vuol dire che stai diventando vecchio. Cioè i giovani di oggi, bu bu bu, che noia. Io ho avuto un modo di vedere che i ragazzi, anche quelli apparentemente perduti, insomma, di fronte a una forte motivazione, a un'esperienza come per esempio quella del cinema, tirano fuori delle cose miracolose. Il mio protagonista di Scialla era un ragazzo che aveva abbandonato la scuola e che stava tutto il giorno in casa a guardare la televisione ed è diventato un attore bravissimo. Filippo Scicchitano, il ragazzo che vedrete stasera, lo stesso, disperazione dei genitori, voti bassissimi, ha preso la maturità per il rotto della cuffia a un istituto privato per poter fare il film con noi. È diventato un attore bravissimo. E poi ci sono dei ragazzi del Cinema America che, come sai, io amo molto, sono dei ragazzi di quartiere, di Trastevere, anche loro hanno occupato una sala cinematografica per poterci fare le feste e fare le canne e poi sono diventati invece dei gestori di cinema e dei programmatori di cinema ormai di livello europeo. Hanno avuto articoli da tutto il mondo di apprezzamento per quello che stanno facendo e adesso gestiranno un loro cinema a Roma avendo vinto un bando comunale e quindi anche quella è un'esperienza che ti dice quando uno trova la sua strada si tratta solo di trovare la tua strada. Un'ultima domanda vorrei farti una considerazione sul titolo del Meeting le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice una frase detta da Don Giussani nel 1968 abbiamo visto fra l'altro con te poco fa la mostra sul 68 e mi fa pensare un po' ai personaggi dei tuoi film che non trovano la propria strada secondo come dire delle idee come dei dettami da seguire ma incontri che accadono fratto la rassegna che inizia stasera contro quello che vuoi l'abbiamo chiamata sintetizzando questi concetti cuori in movimento si mettono in moto cosa ti fa suscitare queste... Oggi sono venuto qua senza sapere niente e devo dire che ho respirato un'aria un'aria molto positiva già il fatto di vedere tante persone in giro che si interessano a varie cose a vari eventi culturali mi è sembrato un fatto molto positivo poi ho visto questa mostra sul 68 che mi ha colpito perché mi ha fatto proprio pensare che succede periodicamente nella storia di un popolo che ci sono dei momenti di grandissimo cambiamento di grande rigenerazione della società e mi ha fatto desiderare fortemente che questo nostro paese vada incontro a un periodo come quello senza ovviamente la violenza senza gli aspetti più brutti però sento proprio la necessità di un rinnovamento non ho usato la parola cambiamento di un rinnovamento della società italiana insomma di una spinta nuova e spero moltissimo che questa cosa venga dai giovani ecco venendo qua ho avuto la sensazione che questo possa essere possibile e quindi insomma ne esco positivamente grazie grazie a voi ci vediamo dopo la mia unica laureanda su di me per adesso l'ho stipendiata io io non aggiungo niente se non vi invito caldamente a venire questa sera a vedere il film sempre qui alle 21 quindi mangiate in fretta e sottolineo una cosa che è poi appunto quello che continuo a ripetere quando mi chiedono perché sono rimasta affascinata da lui perché mi ha colpito molto nei suoi film il fatto che guardandoli non si viene intrattenuti ma si semplicemente perché sono anche molto divertenti come avete visto ma si riscopre il mondo il mondo inteso come la società perché a me ha molto colpito anche questo impegno questo coraggio di guardare dei temi anche sociali molto molto importanti ma il mondo dei nostri rapporti del rapporto familiare dei rapporti amorosi dei rapporti generazionali nel piccolo della quotidianità e solo così possono incidere poi forse ma io credo di sì sempre più in grande e poi la bellezza di scoprire che nel nostro cinema di ieri e di oggi ci sono delle perle che appunto come diceva Antonio io spero che vi sia venuta voglia di riscoprire perché ne vale veramente la pena e dicono dicono di noi e dicono di noi oggi l'ultima cosa che vi dico riguarda il meeting perché come sapete al meeting tutto è gratuito e perché il meeting lo facciamo noi io sono una volontaria ma come avrete visto in giro c'è la possibilità di donare ai vari stand del donna ora del meeting con un bel cuore che si vede molto bene e se volete nel piccolo nel grande possiamo contribuire a che il meeting vada avanti così come state vedendo in questi giorni io vi rinvito stasera e grazie mille dell'attenzione e buonasera tra tutti a più tardi grazie a tutti grazie a tutti